un distacco della placenta rapidissimo sarebbe questa secondo l'asile toscana nord ovest la causa del decesso di un anno nata su cui anche la procura di lucca ha aperto un'inchiesta la tragedia si è verificata l'8 febbraio scorso all'ospedale san luca per cause che adesso gli inquirenti vogliono capire contemporaneamente anche l'azienda sanitaria ha avviato l'indagine interna volta ad individuare eventuali problemi durante il complesso intervento secondo la direzione dell'asl il personale sanitario avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la vita della bambina nel rispetto delle procedure di lavoro e delle linee guida con una gestione tempestiva del problema che ha condotto al cesareo di urgenza